Nel secondo turno di votazioni i cittadini di Isernia incoronano Piero Castrataro, sintesi perfetta all'interno del centro-sinistra guidato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, spazzato via il litigioso centrodestra dopo la buona performance dell'avvocato Melogli al primo turno delle due settimane precedenti. Il risponso dello scrutinio è stato fin troppo netto, gli elettori hanno scelto la novità di un giovane preparato professionalmente assieme ad una squadra intraprendente e vogliosa di emergere. Il 46enne ingegnere Castrataro succede a Palazzo San Francesco al generale Giacomo D'Apollonio. Il nuovo consiglio comunale muta quindi radicalmente. Nella maggioranza di centro-sinistra vanno a sedersi gli esponenti Scarabeo, Iannone, Delbianco, Di Baggio, Laurelli, Paolino e Olivieri per la lista Isernia Futura. D'Achille di Lollo, Bontempo, Sardelli, Cefaloglie, Perpetua del PD. Di Giacomo Vinci, Panicce e Di Rollo, Traivolt, Barone Monaco nelle fila del Movimento 5 Stelle e Ferri per il Partito Socialista. All'opposizione Fabrizio, Dall'Olio e Pietrangelo di Forza Italia. Lancellotta di Perna, il candidato sindaco Cosmo Tedeschi di Fratelli d'Italia. Di Luezzo per i Popolari, Mancini di Alleanza per il Futuro, Amendola, Iris e Calenda Udc.